Anzitutto, di cosa si tratta? Si tratta di analisi FEM in cui viene studiato il comportamento tensionale e deformativo del componente mediante una sezione della geometria. Questa è proprio, come dire, l'estrema sintesi in maniera molto chiara di cosa sono le analisi 2D. Quindi viene studiato il comportamento tensionale e deformativo prendendo in esame una sezione della geometria. Che significa? Ecco, se dovessi studiare il comportamento di questa chiave inglese, essendo un corpo a spessore costante e sottile, a me nessuno mi vieta di analizzare la sua sezione. Ancora, se io dovessi fare un'analisi su un dissipatore, un dissipatore a sezione costante, a me nessuno mi vieta di fare un'analisi termica. Attenzione, quindi sono passato da un'analisi strutturale ad un'analisi termica e già qui vi sto dicendo che possiamo eseguire analisi strutturali e analisi termiche in 2D. Quindi io posso anche analizzare il comportamento termico di un dissipatore andando ad applicare il carico di temperatura e il coefficiente convettivo. Oppure posso studiare un recipiente in pressione. Ebbene sì, perché se ci pensiamo, un recipiente in pressione ha una geometria che è assial simmetrica. Quindi io posso prendere a riferimento una sua sezione e studiarne il comportamento. Ora che abbiamo capito di cosa si tratta, mettere subito in chiaro quando conviene utilizzare questo tipo di analisi. Ebbene quando un problema può essere ricondotto a un caso 2D, quindi un caso bidimensionale, tipo quelli che vi ho mostrato nella slide precedente, senza per questo perdere nell'accuratezza dei risultati, riducendo così i tempi di calcolo. Anzi questo l'avrei dovuto mettere in grassetto. Cioè è qui che otteniamo il massimo vantaggio dalle analisi 2D. Perché? Perché io posso affrontare problemi anche molto complessi, tipo quelli che vedremo noi. E vi anticipo che effettueremo tre analisi non lineari. Non effettuerò analisi statiche lineari, ma tre analisi non lineari, non a caso. Quindi analisi complesse perché? Perché l'analisi 2D mi consente di ridurre drasticamente i tempi di calcolo. E questo è il principale vantaggio che ci danno le analisi 2D. Ecco, anche qui vi riporto un esempio che poi è uno dei casi studio che tratteremo, tra l'altro il primo caso studio che tratteremo, in cui metto a confronto proprio i tempi di calcolo nella soluzione con studio 3D e 2D. Ecco, si tratta di uno studio non lineare, in cui viene appunto studiato il comportamento di una barretta in acciaio che viene formata attorno a un tamburo di un certo diametro. Ebbene, lo studio con geometria 3D discretizzata con elementi tetra ha richiesto ben 3 ore e 28 minuti, come state vedendo. Lo stesso caso studio affrontato in 2D ha richiesto solo 9 minuti. E la deformata ottenuta è del tutto comparabile. Ecco, non credo che occorra aggiungere altro per evidenziare il principale vantaggio di questo tipo di analisi, un forte risparmio di tempo.